Ridefinire le commissioni consigliari dopo gli ultimi riposizionamenti è la proposta del capogruppo di Forza Italia Valerio Longo che dopo le dichiarazioni di alcuni consiglieri di opposizione sul tema chiede la nomina di presidenti che facciano funzionare seriamente le commissioni coinvolgendo quella parte di opposizione disposta al confronto e al dialogo. In commissione, prosegue Longo, non esiste maggioranza e opposizione. Il problema vero è la qualità del lavoro e per questo credo che tali organismi non debbano riunirsi solo in occasione dei consigli comunali ma essere convocati tutte le settimane ed avere il tempo necessario non solo di esaminare i provvedimenti che passeranno poi in assise ma soprattutto il tempo utile per discutere e proporre soluzioni ai problemi della città.